Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video della Lucky Acid Pryson Ragazzi guardate subito quanti cavolo di soldi ho Purtroppo ce li dureranno pochissimo perché appunto 10 milioni servono per fare il prossimo rank Intanto facciamolo perché non bisogna perdere tempo Ok salito al rank S ragazzi che bello Ora siamo passati al colore blu Che io se premo tab non vedo perché c'è Cioè ci rimane scritto YT davanti e vabbè Intanto andiamo all'Warp S e vediamo com'è fatto Duh sul serio Cioè non sono disgustato realmente ma ehi è uguale all'altro Ah beh no in effetti no perché nell'altro non c'era così tanta redstone Nella redstone costa tantissimo in teoria Eh no invece si c'è la redstone anche di qua Uuuuh robettina buttata qui perfetto Vendiamola Comunque no ok la redstone c'è comunque Di là forse c'è più redstone Però qua ci sono i mattoni Mentre nell'S c'è molta più redstone E al posto dei mattoni c'è il ferro Beh probabilmente sono cose che sono state studiate E equilibrate apposta per dare sempre tot soldi extra Quindi alla fine farmerò più easy Ma non è nulla di eccezionale Ma ragazzi prima di cominciare col vero e proprio episodio Andiamo a spacchettare un pochettino Di casse e si ragazzi perché come potete vedere qui ho un pochettino di key Quelle comuni come al solito non le andrò ad aprire perché non Non mi interessa le regalo a voi lo sapete già Detto questo cominciamo e ne abbiamo cinque epiche che sono tantissime Ora vediamo un attimo se mi danno dei kit Ma ragazzi a me non capisco non mi danno più kit o boh Intanto mi ha dato altre rare Non lo so non ho mica capito come cosa Ma ha dato in effetti ok Un piccone con efficienza 10 Un altro con efficienza 9 E vabbè ok Praticamente non mi ha dato nulla di buono Dopo andiamo a aprire quelle rare Allora i soldi tanto me ne danno sempre pochissimi L'ideale sarebbe guadagnare un pochettino di token E si un po' me ne hanno dati Non tantissimi però un pochettino si E vabbè Io vi butto un altro picconcino qua Prendetevelo E vi regalo anche un po' di key Però regaliamole a questo qua che è un rank F E anche qua c'è un rank A Bello mio Tieni le tue key che te le sei meritate No non è vero Però ne farai buon uso già lo so Ah ma ha dato anche uno zainetto Va bene lo metterò insieme agli altri che non uso Ma ragazzi Ora comincia veramente l'episodio di oggi Perché cosa volevo fare allora Di costruttivo per la serie nulla Perché la serie ora come ora sono io che devo farmare off camera Per appunto aumentare di grado Anche se nei prossimi episodi Arriverà qualcosa di figo Ma oggi ragazzi Andremo a esplorare delle isole Perché come io ho questa isoletta qua Che tutto sommato è carina Nulla di che Ma comunque carina Voglio assolutamente andare a esplorare le altre isole Per vedere chi ha fatto cose fighe e chi no Molte isole ovviamente sono disabitate Ma altre invece sono veramente fatte bene Detto questo Sto facendo questa cosa Perché in verità è un mezzo spoiler di un altro episodio Il prossimo precisamente Tenetevi forti Perché ci sarà una bella Bellissima notizia per voi Quindi vi do un consiglio Cominciate a costruire qualcosa di figo In questa serie qui ragazzi Perché oltre che ovviamente La verrò a vedere Quindi beh ci sta Che venga a vedere Magari vi do anche un voto Roba simili Però veramente Ci sarà una cosa figa E si è superata avanti ora Ma io per voi Detto questo Questo qua è il mio vicino di casa Praticamente Oddio vicino un po' lontano Mi avete tutti quanti andarlo a vedere E ok eccomi qua Allora lui praticamente Ha contornato l'isola Con questo murettino qui Diciamo che L'idea è figa Il modo in cui l'ha fatto Carino Nel senso Non è brutta come cosa Però Non mi piace molto Proprio il tema causato Ovviamente ragazzi Ci tengo a precisare una cosa Io Girando le isole Ovviamente criticherò Ciò che non mi piace E approverò Ciò che mi piace Ma si parla ovviamente Di gusti personali Io per dire che una cosa è brutta Non è che devo saperla fare meglio Io non saprei fare nemmeno Questo muretto Manca poco Però ciò non toglie Che non mi piace tantissimo Soprattutto dall'esterno Penso che a lui Non gliene freghi molto Di come si vede all'esterno Però boh Ripeto l'idea è figa La vorrei fare anche io Perché guardate Tipo se va un pochettino più in fuori L'isola non è sua E se va dentro così L'isola diventa la sua Quindi Diciamo che Nel mio caso sarebbe molto comodo Per far entrare le persone Soltanto Se fanno il warp E non tipo volando O con la barchetta Che arrivano Dalle isole vicine Comunque per il resto Non è completata Qua ha fatto delle pixel art Carine E una fontana ragazzi Che io non capisco Cioè ok È figa la fontana È fatta bene Ma perché sta volando Perché Vabbè qua c'è il classico pillar Di materiali giusto Per far aumentare di livello l'isola Quello è il classico Credo un po' di cose Messe veramente a caso Che non Non capisco bene Questo tipo Cos'è un ufo È una farm Boh Ma va bene così Dai va bene così Ma ragazzi Ora scriviamo in chat Che vogliamo visitare Qualche isola Così magari C'è qualcuno che si propone Andiamo a vedere le loro Anzi Prima di scriverlo in chat E vedere le isole degli altri Voglio vedere un attimo Le isole Di quelli che sono Nella gang appunto Quindi guardiamo Chi è online Allora c'è Saku E Racing Fanatic Che tra l'altro Loro hanno l'isola insieme Bravissimi ragazzi Sempre online Oserei anche dire Quindi mi sono tippato Da Saku E ragazzi Io la loro isola Già l'avevo vista Me l'era un pochettino Spoilerata Guardate che roba Che stanno facendo Allora praticamente È un'isoletta tranquilla Che sembra un pratino Come molti altri Hanno due casucce Nulla di particolare Questa qui Non mi piace tantissimo Penso sia Non è in stile giapponese Cioè Almeno non a livello di colori Però c'è tipo la bandiera E ok va bene È tipo vuota dentro Ah no ok Questa sembra di più un tempio Però Forse è sbagliato il colore Non lo so C'è qualcosa che non mi torna Che non mi riconduce molto al giappone Comunque no Queste qui sono delle case Abbastanza carine Ma ragazzi La cosa veramente bella È quest'albero qui gigante È bellissimo Non l'hanno finita Purtroppo non è finito Ma ragazzi Guardate che cavolo di lavoro Che c'è Non so se questa diventerà una casa O Lo lasciano vuoto Perché ovviamente Riempirlo sarebbe troppo difficile Ma è veramente una figata Purtroppo le isole Spesso e volentieri Vengono rovinate Da questi mega pillar Di roba Ok Fanno aumentare il livello Ma insomma Mettilo sotto l'isola Così la vai a rovinare E basta Non lo so Non mi ispira molto Questo killer qui Però per il resto ragazzi Veramente una figata Ora scriviamo in chat Devo visitare delle isole Ci sono volontari Vediamo se qualcuno Si offre Per farmi visitare La sua isola Ovviamente ragazzi Mi tipo Da persone a caso Senza nessun criterio Lui si è offerto Isoletta piccinina Diciamo ancora molto basilare Perché qua ci ha lasciato Ancora la sabbia Però Però allora Casa di Chris 007 Un vero lezzo 007 Casetta diciamo In stile come la mia Molto bello il vetro bianco Devo dire Ci sta Un po' sfoglia E qua ha fatto una farm Non è automatica Assolutamente Però diciamo Che per raccogliere drop Non è affatto male Però mi cari sulle cose basilarie Mi hai lasciato la casetta standard qui E poi hai mangiato il terreno Ora non per dire Ma se hai fatto le cose con questo materiale qui Sai benissimo Che si possono comprare i materiali allo shop Quindi perché hai smangiucchiato l'isola Questa cosa Non la capisco sinceramente Ma va bene così Mettano Vieni nella mia isola Ti pago No Non voglio essere pagato Ma vengo volentieri Allora Lui la sta facendo come me Con i materiali preziosi L'albero standard L'ha lasciato Beh l'ho fatto anch'io Non ci sta bene nella mia isola Anzi fa proprio schifo Me lo dite tutti voi di levarlo Però A me piace Che vi devo dire Poi casettina standard Anche qui Che Aspettate ma Se veramente Cioè la porta Ok non c'è però Tecnicamente è una porta E se veramente una casa Penso che sia incompleta Perché Non Non la capisco molto bene Cioè vedete qui Potrebbe sembrare un generatore Però non è Mai nella vita un generatore Questo qua Quindi Penso che sia una struttura E la stia completando E in effetti qua si ha un po' la forma di casa Si Magari manca il tetto Non so cosa manchi Magari vuole fare un grattacielo Non lo so proprio Comunque È in costruzione Buon lavoro Visitiamo un'altra Ecco questa qui È già più elaborata Come isola Qua ha fatto tipo le ceste Che sembra una bacheca Vabbè è un magazzino un po' particolare Ma carino Questa è la casetta Che non posso vedere da dentro Perché ci ha messo il lucchettino La casetta La casetta allora Devo dire una cosa Bella l'entrata Che c'ha la cascata fatta così Ci sta Ma il materiale della casa Con questo quarzo Cisellato Lavorato così Non mi piace tantissimo Manca ancora il tetto E qua c'è una stanza Che sembra una nuvola Questa cosa qui È figa Oh qualcuno è morto No Stava morendo Poveraccio Perché hanno lasciato i buchi Oddio ma perché Perché è bucata Comunque no Ok Non so cosa Debba essere preciso Questa roba qui Se un osservatorio O robe simili Però magari Già nella mia isola Potrei fare delle robe così Potrei tipo spacciarle Per nuvolette E sarebbe una figata Magari è con un blu Che si confondono appunto Col mare Ma per farle confondere Col cielo Forse opterei per il bianco Che le nuvole Si sa sono bianche Poi classica farm Anche abbastanza piccoline Infatti c'ha soltanto due spawner Ma non so di che livello E questa roba qui Che sembra una farm O per per le donazioni Ah no Loro qui c'hanno il warp Della loro isola Ecco welcome E praticamente si va qui E si dona Beh una roba simile Dovrei farla anch'io Il fatto è che Veramente Non ha troppo senso così Perché hanno messo il recinto Per non far andare via le persone Ma molti hanno la flight Tipo quindi fanno così E sono a giro per l'isola A cosa serve il recinto A questo punto Estetica Beh dai Tutto sommato ci sta anche Passiamo alla prossima isola Stefano ci dice Sono nuovo Ma la mia isola non è male Ok andiamo a vedere Allora E beh in effetti è vero Rank F Ma è molto meglio Di quella di altri Che sono di rank superiore Faccio un po' fatica A capire cosa è cosa A dire il vero Mi piace molto Come ha fatto il contorno Cioè oddio Loro qui non ci sta molto bene Però penso lo andrà a ampliare Figo Proprio l'alternanza di blocchi Mi piace un casino Ma il problema è Quando andrà avanti Con gli strati Perché non rimarrà per sempre Così piccola l'isola Cosa Cosa si inventerà Farà altri strati sempre diversi Ecco lì potrebbe essere un problema Che rimane piccola così E figa Poi qua si scende Penso che vadano in quella specie di dungeon Miniera Che tutti voi mi consigliate di andare a visitare Ragazzi Ok no Si è fermato qui Però so che c'è un dungeon Miniera qua sotto Anche qua I sotterranei sono fighi Li farò anch'io Ma non così bassi Perché Bello mio Io ci sto sbattendo la testa qua Ma continuiamo Allora C'è anche questa struttura qui Che è uscito prima uno zombie Da qua dentro Ma non è uno spawner Almeno non sembra uno spawner Forse è la sua casa Penso Ma non ne sono sicurissimo Però è fatta in prismarine Ragazzi Questi blocchi qui Sono veramente spettacolari Sembrano tipo I cocci tutti colorati Forse sono veramente I cocci colorati Ma è veramente una figata Questi blocchi qui Li vorrei utilizzare anch'io Però Non Non ne sono capace Non riuscirei a fare qualcosa Di bello e sensato Con quei blocchi Dai facciamo anche Questo screen Allora Ora siamo da falco Beh Qua si lavora in grande Oh mio dio Non l'avevo visto Qua si lavora in grande Ha fatto tipo una specie di hub Con quattro entrate Due ancora sono inutilizzate Una porta in un robo piccinino Che non è ancora completo Una casetta E poi qui Ha fatto un Un principio di Cos'è? Un grattacello Veramente? Bello anche qua lo smistamento Cioè nonostante lo smistamento Sia sempre una cosa abbastanza brutta Un punto debole Qua mi sembra messo abbastanza bene Poi ragazzi Con i blocchettini così messi E tutto è anche abbastanza figo in vista Dentro questo grattacello qui Ci sono anche le farm Cioè a parte il fattore estetico Non vedo perché dovrebbero essere messe Proprio in modo così distante Perché effettivamente Cioè c'è una farm di qui Una farm di là Non dirmi che ci sono anche sopra Ah no Ok di sopra cambia mob Perfetto Almeno ha senso Ah quindi questo qui È tipo una mega farm gigante In cui uno entra qua dentro E E farma tutto Beh l'idea ci sta Il fatto è che se veramente Le metti a destra e a sinistra Dello stesso tipo Non ha molto senso Questa qui è una di quelle isole Che vorrei rivedere Tra magari un mesetto E vedere cosa cavolo è cambiato Perché uno così qua Può costruire il mondo veramente Comunque andiamo dall'ultimo Ho scelto un rank alto Perché un rank alto Effettivamente magari Ha fatto delle cose fighe E beh ragazzi Le cose fighe ci sono Ci sono anche molte cose Che non capisco sinceramente Tipo questa striscia di terra Qui Perché c'è una striscia di terra Ma poi tra l'altro What? Qua è sott'acqua Oh mio dio Devo mangiare una mela d'oro Eh no ma se vado sott'acqua Poi non vedo più nulla Cioè lui ha costruito L'aggiuto da quella roba lì Ma non Cioè è uno strato di blocchi solo Ah Forse non è Che ha un senso realmente Estetico O è una struttura Forse sotto L'hai mesetto Per far aumentare di livello L'isola Senza disurpare l'ambiente Penso sia l'unica Come appunto Avevo suggerito di fare io prima Che è una figata E qui invece Ha messo i blocchi di iron Semplicemente perché Ha costruito un iron golem gigante Che ha preso Cos'è? Un pezzo di terra a caso Ragazzi Questa è una figata È veramente una figata È fatto benissimo Ecco ora magari l'iron golem Forse è un po' più cicciottello Però è veramente fatto bene E ci sono anche tutte queste isolette volanti Qua ragazzi C'è un lavoro Da non sottovalutare E ha fatto anche Il portale del nether Che io non ho ancora fatto Opsone Veramente Ha anche addobbato Con dei lucky block Beh Finti lucky block Perché questi sono quelli finti Quelli che hanno la faccia così Quelli veriano Il vero da tutte le parti C'è anche qua lo spawner Io l'avrei sinceramente nascosto Perché esteticamente non è bello Ma poi aspettate Ma sono spawnati E sono appena dispunati Ma che senso Ma perché? Perché? E questo cos'è? Un minicampo da calcio In un'isola volante? No ragazzi Ma questo Questo è mostruoso Poi c'è sta roba Che sinceramente Non so cosa sia Forse un parkour Un minigame Perché so anche che c'è gente Che sta lavorando a dei minigame Sul server Boh Sta di fatto che è veramente figo Comunque ragazzi Io concludo il video qui Spero che questo episodio Un po' diverso Vi sia piaciuto Abbiamo explorato un po' di isole Vi ricordo di giocare E fare delle cose fighe Nel server Perlomeno di farle Se giocate nel server Perché nel prossimo episodio O nei prossimi Potrebbe esserci Una mega sorpresa Per voi Detto questo Spero che questo video Leggissimo vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti